buongiorno a tutti ciao alex toningai bologna due consigli per disintossicare i capelli in questo periodo quindi pulizia a fondo utilizzando ingredienti naturali che abbiamo tutti quanti a casa il primo è il bicarbonato misceliamo tre parti di acqua e una di bicarbonato e con questa miscela laviamo i capelli avendo cura di lavorare bene anche la zona della cute crea una pulizia profonda e una sensazione meravigliosa di freschezza il secondo consiglio è quello di utilizzare sale grosso aggiungiamo due cucchiai di sale grosso allo shampoo che utilizziamo normalmente questa soluzione elimina i residui tossici dai capelli e purifica le cellule ragazzi stiamo tutti quanti a casa lontani ma vicini a prestissimo